salve a tutti oggi sono qui per parlarvi di un materiale molto particolare realizzato totalmente con fibra naturale di capra d'angora ovvero il mohair personalmente preferisco utilizzare il mohair avvolgendolo a mano per valorizzare al meglio la lunghezza delle fibre magari spettinandolo un pochettino con del velcro un pettinino per poter estrarre le fibre più lunghe e dare più movimento all'imitazione il mohair è un filato disponibile in vari colori molto lanuginoso molto voluminoso e che tende quindi ad assorbire anche abbastanza acqua è meglio quindi utilizzarlo per sommersi e streamer di piccole e medie dimensioni iscriviti al canale Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.